amici di twitch buonasera a tutti andrea è inutile che fai la voce perché stai più della che de qua quindi questa probabilmente sarà la tua forse penultima live prima della dipartita e conservere la voce per cose importanti piuttosto che mimare la mia stupenda e fantastica voce che tutti hanno detto che è molto particolare caratteristica e che potrebbe essere un cavallo vincente qualora io mi dessi al doppiaggio la recitazione cosa che non farò perché è un mondo completamente fuori dal mio quindi ah non lo farai e no purtroppo no sai c'è bisogno c'è bisogno di studio abbiamo perso tutta quella fetta di pubblico che ti seguiva per esatto buonasera a tutti benvenuti in questo 174esimo episodio di live talks ossia il format che va ad invitare quelle che sono le eccellenze all'interno della cultura pop e quindi in vari in campi in tutti i settori di cui si compone quindi parliamo di recitazioni di doppiaggio di musica di gaming di wfx di fumetto e quindi a proposito di fumetto questa sera abbiamo con noi veramente un'eccellenza assoluta fammelo dire daniele daniele grazie mille di essere qui con noi a tutti grazie grazie a voi c'è addirittura eccellente cavolo cavolo ti stimiamo tutti insomma quindi siamo veramente molto felici di farci questa chiacchierata insieme grazie anche io sono molto molto contento sono davvero contento di essere qui con voi bene bene allora prima di iniziare per a bomba con daniele no noi abbiamo quelle formalità che insomma tutti conoscete a memoria ma che siamo costretti ogni volta a ripetere perché metti caso c'è qualcuno nuovo che ci guarda oppure qualcuno si è scordato è sempre bene no fare un ripasso quindi io sarei molto tentato a farlo fare andrea così lo vediamo proprio morire in diretta dato che fa il simpatico e fa la vocetta no inizio live per prendere possiamo provare poi se muoio in diretta sono solo aspetti in più esatto è un contenuto quindi andrea tutto d'un fiato tutto d'un fiato senza respirare tu adesso non devi prendere non voglio sentire neanche un secondo di pausa è proprio vai sparato con quelli che sono i comandi chat quindi 3 2 1 vai telegram rimando al nostro canale telegram dove potete rimanere aggiornati su tutte le novità che ci riguardano riguardano il canale e gli ospiti che saranno presenti durante le varie settimane punto esclamativo sub vi rimanda il link per sottoscrivere un abbonamento al nostro canale che è gratuito per tutti coloro che hanno amazon prime a un costo crescente per tutti gli altri saltate la pubblicità recuperate gli episodi passati usate le emoji di luciano caparrucca bionda che è tanta roba diciamocelo e poi entrate nel gruppo esclusivo telegram dove ci siamo noi e tanti altri ospiti e si parla di tante cose belle punto esclamativo ospite il comando più importante i social del nostro ospite daniele mi raccomando seguitelo ma a distanza ricordate che usciamo insomma da un periodo di pandemia un po' di distanza va sempre bene punto esclamativo quote rimanda ad una delle frasi storiche dette da noi o dai nostri ospiti durante le dirette sono molto divertenti scopritele tutte punto esclamativo partners i nostri social partner ovvero le voci del doppiaggio roba da doppiatore e monkey beat punto esclamativo website il nostro sito web ciao mamma mia mamma mia anche anche morente è andato abbastanza dice di mente comunque bravo andrea ci eravamo scordati di salutare i nostri mod quindi jacky fan page jack che è la polizia del canale quindi siate buoni siate bravi perché se fate i maleducati scrivete cose cattive troppo troppo cattive perché cose un po cattive con educazione passano venite prima sospese e poi abbannati e poi salutiamo i nostri vip il caro tommy rolando il grandissimo mister lannister e fantastica simona ovviamente ciao simona e tra l'altro scrivono in chat e vogliono vedere i miei film quindi vedi voglio vedere il film ma ne ha fatti tantissimi senti questa batman superman iron man spider man deve andare avanti c'è tutti i personaggi che a te piacciono soprattutto gli ultimi due vero iron man e spider man si effettivamente non mi piace man mi ha menzionato vero sei emozionato mister lannister allora daniele eccoci a noi eccoci eccoci allora noi non abbiamo nulla di preparato perché ci piace vedere dove il discorso ci porterà abbiamo solamente una domanda che è uguale per tutti sono pronto che è quella iniziale porta con sé un piccolo preambolo sicuro di di voler sentire il preambolo credo credo di sì credo di essere pronto bene pronto per il preambolo per il preambolo vai allora noi no ci alziamo la mattina usciamo di casa e magari incontriamo no durante la mattinata non so tipo dieci persone e in base a come noi ci poniamo con loro a come loro si sono alzati se hanno l'umore storto o meno magari avranno dieci immagini diverse di come noi siamo però dal nostro punto di vista è interessante vedere come il nostro ospite vede se stesso quindi io ti chiederei chi è daniele non tanto dal punto di vista professionale perché poi ne andremo a parlare ma dal punto di vista di daniele stesso per quel che riguarda aspetti caratteriali passioni e hobby che magari esulano quello che è poi il tuo lavoro ok ma che domanda facile ma proprio iniziamo così subito iniziamo così così dopo ti sembra il resto è il tuo colore preferito perfetto ok allora guarda proprio agganciandomi a quello che dicevi quando ti svegli la mattina eccetera conta che mi sveglio alle cinque un quarto del mattino per andare in palestra quindi perché nel senso una cosa importante eccetera c'è la salute quando arrivi e superi 30 anni dici guarda forse facendo anche sto lavoro è il caso che ti tieni in sesto sennò il dolore della schiena si fanno sentire e però ecco giusto per dire che appunto visto che una cosa che faccio un orario impensabile ma perché poi mi permette a di essere costante di di non spezzare la giornata lavorativa questo magari può dire di me che sono c'è almeno mi piace pensare di me come una persona che quando si fissa un obiettivo cerca di raggiungerlo in ogni modo anche sacrificando alcuni casi orari di so ore di sonno e in altre in altre cose c'è in altri frangenti magari possono essere uscite con gli amici quando ero magari più giovane perché volevo arrivare all'obiettivo di fare fumetti quindi mi ha letto tardi ma ti svegli comunque presto per disegnare 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 però appunto sono sono una persona molto testarda e ambiziosa e che già questo forse mi mi definisce abbastanza e magari questo lato di me può essere quello un po più ruvido visto dall'esterno perché a volte magari sai quando uno è di forti passioni poi in qualche modo si scontra con gli altri però alla fine non è critico tutti i giorni con le persone però diciamo che per le cose in cui credo mi sacrifico molto che sia lavoro che sia o che sia altro ecco e poi ecco gli hobby a parte appunto cercare di tenermi in forma e non c'è stato moltissimo spazio per gli hobby negli ultimi anni proprio perché il lavoro mi ha un po risucchiato ma ne sono un po uscito da poco perché ho preso un cane questa cosa mi ha obbligato a staccarmi ma è stata una cosa voluta nel senso è stato anche un modo per una scusa per non rimanere fossilizzato poi sul lavoro perché poi rischi di perdere un po la prospettiva delle cose non solo sulla vita ma sul lavoro stesso e quando un po prendi un pochino le distanze guardi un pochino meglio quello che fai poi ti accorgi che forse hai battuto la strada sbagliata o lei battuta male o magari si è fatto un po prendere da alcuni meccanismi non proprio sanissimi eccetera quindi però ecco diciamo che c'è tanto lavoro nella mia vita c'è molte letture molte visioni di cosa anime film cerco di infilarci anche videogiochi quando tempo ma c'è poco poi appunto il fatto che abbia io lavoro in uno studio con al tanti altri professionisti e quindi questa cosa diciamo che essendo tutto il giorno in studio con loro anche la parte di socialità poi e poi convivo con la mia ragazza quindi c'è anche quel lato lì ovviamente che non facendo questo lavoro e giustamente anche delle richieste delle necessità che mi hanno anche insegnato a proposito di prendersi dei propri spazi e allontanarsi un pochino da dalle fisse sul lavoro anche quello diciamo che ha aiutato mi ha insegnato delle cose ecco devo aver risposto in maniera molto confusa tutto quello che mi avete chiesto ma in realtà in realtà è stata confusa ma molto chiara molto chiara devo dire alla fine è un po' come quei film dove all'inizio non ci capisci niente poi alla fine tutti tutti colleghi tutti i puntini comunque a proposito del avere una compagna e trovare i propri spazi io ti capisco perché tra un po' penso che anch'io andrò fuori di casa perché non mi vede mai cioè tra l'altro sto sempre qui in stream quando non sto in stream lavoro per comunque per il canale e per altre cose quindi sì tra poco tornerò single quindi ragazze fatevi sotto inviate le candidature alla mail manunderthehood.com mettendo un vostro profilo come siete perché vorreste diventare la mia compagna anche delle foto insomma intere non non photoshoppate possibilmente daniele tanta stima quando hai detto che vai in palestra ti alzi alle cinque e un quarto del mattino e vai in palestra cioè io farei molta fatica e te lo dico da sportivo perché ho giocato tanti anni a calcio ex sportivo mettiamo i punti e quindi è vero che cioè di solito vai in palestra molto presto ci vai molto tardi però molto tardi dopo hai l'adrenalina quindi non riesci a dormire giusto ma guarda il fatto di andare troppo tardi è che se ci vai la sera sembra di stare in discoteca quindi tra casi musica che decuplica il volume quantità di gente mancano i cocktail e la luce strobo e poi ci siamo no ma in realtà la l'opzione mattina è stata che se l'avessi fatto la sera avrei trovato una serie di scuse per non andarci perché poi magari questa sera c'è l'aperitivo questa sera esce con gli amici questa sera c'è il film e ci sai che c'è io lo faccio la mattina così non ho più scuse e poi vado a lavoro e ci siamo quindi così fai l'aperitivo e poi fai after esatto 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 mi accuccio fuori dalla palestra mi addormento lì nel vicino lo zerbino eccomi pronto a pompare morire sotto 10 kg probabilmente mi ammazzo subito bellissimo sarebbe ma invece parlando di quello che poi è diventato il tuo lavoro no anche è detto essendo molto assorbito poi perché sappiamo tutti quanto poi il tuo lavoro in generale quello degli illustratori di comic book artist sia molto soprattutto in determinati momenti no molto dispendioso che non ti lascia proprio tempo materiale per poter far altro corrisponde alla tua più grande passione o comunque a quel sogno che penso tutti i bambini abbiano inizialmente chi uno chi un altro no sogni diversi però corrisponde alla a quello che volevi fare insomma come ti immaginavi da bambino avesse presa la tua vita ma sai che in realtà cioè no ma nel senso positivo nel senso che io non ho mai pensato di poter fare questo lavoro ma neanche di c'è non era proprio nel nel radar è stata una decisione che ho preso molto 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 tardi sebbene il disegno fosse stato sempre presente nella mia vita io disegnavo quando ero piccolo ovviamente poi le giucchiavo qualche qualche fumetto ho letto tanti tanti fumetti ovviamente con l'adolescenza andando avanti però è stato un certo punto ero in quarta liceo e stavo disegnando sul diario disegnavo dicevo cazzo però peccato sia questa cosa all'università non potessi più farla detto beh sai che c'è ho scoperto che c'era questa scuola del fumetto a milano e quindi ho deciso che si era andato a fare il corso serale lì facendo l'università dopo un anno di università un anno di serale di fumetto detto l'università facevo design a me non frega niente di sta roba quindi ho lasciato e ho ricominciato la scuola dal primo anno facendo il corso regolare non più quello serale e però anche lì era io voglio vivere disegnando poi dopo è subentrato il credere di poterlo fare anche come lavoro presto strano proprio il arrivarci in maniera così ti dico naturale per c'è stato stanno perché proprio è stato un fluire quasi naturale dalla scuola poi nel mondo del lavoro però non era qualcosa che sognavo da fare di fare da bambino ecco c'è un po strano perché ho tanti amici tanti colleghi che appunto avevano le idee molto chiare fin da piccoli e io no c'è ovviamente altri mille mille cose però poi questa è stata quella che ero amavo cioè il disegno era quello che mi ha accompagnato fin da piccolissimo era un modo per esprimermi quindi ok però io adesso sono curioso hai detto avevo in testa altre mille cose cosa avevi in testa allora il ladro perché guardavo un pen ti giuro bellissimo poi il prete perché quando mi diceva no no quando ti trovi la fidanzatina tu non me la trovo faccio il prete non mi rompete poi il pilota di aerei ti giuro questa cosa non so perché se tu mi chiedi nominami un aereo non te lo so dire cioè non avevo neanche la passione per gli aerei però però fissato e poi in realtà non era un vuoto cioè non ho fatto le scuole pur andando bene nel senso anche l'università l'ho fatta andando bene però non arrivavo da una famiglia artistica come dice ho fatto lo scientifico quindi non mi sono mai posto questa domanda se non poi a un certo punto mi arriva mi è arrivata una risposta senza che me la ponesse ecco come domanda quindi stato un po strano però si lavori che non c'entravano ecco mi immaginavo una vita da dipendente nel senso avevo l'esempio dei miei genitori che pur non facendo lavori artistici però appunto è un po quello che hai solitamente attorno lavoro da ufficio comunque impiegato comunque un lavoro normale tra virgolette dito boh si andrò sarà quello no e poi però è diventato veno è diventato che non avere un capo non avere gli orari fissi non avere c'erano delle cose che forse se ci avessi pensato da piccolo da ragazzino un po mi avrebbero spaventato per quanto che non so se sono ragionamenti che uno da ragazzino fa però sai quello di non avere l'introito fisso lo stipendio a fine mese fisso tutte quelle cose lì e però è anche vero che sono figlio di una generazione molto diversa da quelle di adesso quindi adesso forse un po più sdoganato il lavoro del del creativo come parolone dove buttiamo dentro un sacco di professioni ma comunque quello del libero professionista è diventato molto più più fluido anche il mercato del lavoro da tanti anni a questa parte quindi forse adesso sarebbe un po più capito mi viene da dire capito poi accettato non lo so però almeno dice ok so cosa cioè so che con quelle cose si vive io ho messo un pochino a farlo per farlo capire miei però è arrivata poi vedi vedi poi ci sei riuscito poi sono arrivati i soldi hanno detto ok poi si può fare chissà ma comunque è verissima sta cosa cioè nel senso per far capire a qualcuno che non non perché anche adesso per quanto si dica siamo molto più liberi aperti mentalmente anche adesso quando invece vai a dire che cosa fai per alcuni lavori pensano che giochi no tipo cioè io l'ho vissuto su me stesso cioè ancora i miei genitori sono un'altra generazione pensano che io qua sto giocando ma stai a compiuto vabbè ma che fai qualcosa cioè preoccupati ma fai qualcosa e invece poi quando gli metti davanti ai soldi va bene cioè nel senso ok allora evidentemente c'è qualcosa però è difficile poi far capire a chi è esterno ma non solo chi è di un'altra generazione anche a chi magari no lavora in banca un suo stipendio da dipendente oppure hai un lavoro canonico per quelle persone anche se giovani è molto difficile far capire che esistono invece altri lavori più creativi più anticonvenzionali artistici che sono effettivamente lavori e non sbaghi loro tendono sempre a categorizzare il lavoro sotto determinate forme e a considerare tutto il resto vabbè no abbina passione un gioco e invece è brutto perché come dire ok quello che faccio io è più importante quello che fate invece stai a giocare invece no cioè è più artistico e infatti poi fammelo dire daniele ste persone a 23 anni sembra che ce n'hanno 65 invece guardano i quattro come siamo belli esatto a 107 anni l'uno quindi figurati esattamente esattamente la guarda dirti solo una cosa in proposito di quello che appena detto se c'è qua in senso per quanto riguarda i miei genitori loro inizialmente hanno fatto un po di resistenza quando voluto lasciare università ma solo perché ovviamente c'è la preoccupazione dicono c'è dici io spero che tu possa essere felice ma spero che tu possa anche vivere quindi la cosa dei soldi era è un po la battuta ma anche no nel senso il momento in cui tu vedi che tu con questo lavoro ci vivi a posto se sei felice e ci porti la pagnotta a casa c'è ti porti la pagnotta a casa va benissimo quindi i miei genitori inizialmente non avevano capito ma poi mi hanno sempre supportato quindi su quel lato posso riterarmi molto molto fortunato sull'altro lato di persone che non sa che giovani ero fuori una sera con degli amici del fratello della mia ragazza loro sapevano che facevo il fumettista e uno fa ma quindi disegna ancora io ho ancora le bollette devo pagare devo mangiare quindi ti posso assicurare che però io credo che sia perché l'intrattenimento in generale viene visto come qualcosa di infantile a tutto tondo che sia fumetti animazione serie tv forse un pochino adesso un po meno da nerd per i videogiochi lo streaming è tutto quello che ci fa divertire lo associamo al gioco e allora il gioco è qualcosa di infantile e quindi quando fai un'attività giocosa lo dici un po con sì lo facevo anch'io adesso per fortuna forse si sta si sta sdoganando un po di più di nuovo per esempio gaming anche i fumetti hanno cominciano a godere un po più di dignità quindi sicuramente c'è quel fattore lì è un peccato è un peccato perché in altre in altri paesi in altre culture non è così poi il gioco è un elemento penso importantissimo per la crescita di più piccoli ma anche di più grandi permette di fa bene fa bene lo svago in generale l'intrattenimento fanno benissimo e forse sono c'è credo che poi il lavoro del del narratore sia quello più antico del mondo forse il secondo più antico del mondo il primo più antico del mondo è quello che fa luciano di sera giusto lucio con la parrucca bionda abbiamo anche delle lo sticker luciano caverrucca bionda luciano la sera fa il mestiere più antico del mondo che io non lo voglio dire qual è però insomma giusto lucio chi è stato a lucca potrebbe averlo visto esatto girarsi per le vie con questa parrucca bionda acconciato non penso ma sicuro no è vero è vero Daniele è vero verissimo e niente adesso sono stato distratto da luciano caverrucca bionda non penso ad altro fa questo effetto è vero allora dici lucio dice tornando appunto al discorso basta vedere comunque il film che hanno fatto una parodia molto carina anche quella di che cosa non è cosa vuoi fare la grande voglio fare il posto fisso no quindi comunque uno crescendo con queste cose ovviamente è difficile che si abitui che si apra a certe tipologie di lavoro comunque quindi deve avere i suoi tempi se mai li avrà cioè non è detto che magari riesca anche a capirle queste cose sì sì ma poi c'è a lucca ma fai fare il pagliaccio ma sì non ho niente da fare vado lì a fare il pagliaccio ma poi Daniele non so se anche il tuo caso però oltre a far capire queste persone a queste persone che è un lavoro a tutti gli effetti e quindi ok lo vedono una volta che ti arrivano i soldi però poi c'è anche da parte dei genitori quella preoccupazione ti fa dire ok adesso è così però tra un anno tra un anno e mezzo se non arrivano più le cose ti ritrovi questo però il rischio di tutti quei no quei lavori chiamiamoli anche imprenditoriali compartita però se è quello che a me ti piace fare anche perché poi alla fine l'azienda sicura quanto ti pare ma anche quella può fallire e ti ritrovi in mezzo a una strada e quindi che fai non lavori più cioè tutti i lavori hanno quei rischi connessi proprio a quella specifica attività lavorativa però ad alcuni alcuni sembrano come se non esistessero no e altri vanno ad ampliare quelli che non capiscono anche a te capita questo Daniele sì ma guarda poi io sono ovviamente il primo ma come tutti quelli del mio settore poiché un po' di preoccupazione latente cioè sempre dici sì cioè comunque noi siamo abituati a ragionare tipo tra tre mesi finisce questo progetto sto già cercando quello successivo e via discorrendo quindi però era è un fattore che tipo tanti anni fa quando quando io ho iniziato ho iniziato lavorando per l'italia e c'era un po questo spauracchio dell'america per cui tu si inizia a lavorare per l'america però il lavoro non è costante ti usano poi ti buttano via non lo sai se ti tengono è un attimo che ti lasciano a casa è iniziato con questa cosa però alla fine sono quasi dieci anni che lavoro per l'america forse un po di meno però non c'è mai stato questo problema poi in realtà da quando iniziato perché probabilmente se se il tuo lavoro lo sai fare spazio ce n'è poi il lavoro del disegno non solo del fumetto ce n'è tantissimo c'è tantissima roba da fare e ti dirò tutto quello che è extra fumetto è pagato molto di più del fumetto in sé per sé quindi volendo ci sono anche tante altre strade percorribili ma questo ti fa capire anche quanto dobbiamo amare questo lavoro per preferirlo ad altri lavori più pagati però magari dove c'è un po meno il tuo nome sparisce un po in mezzo agli altri quindi c'è anche tutto quell'aspetto un po di ego e di essere tu sei lì in copertina sei non una ruota non sei un ingranaggio all'interno di un grosso sistema ma sei un elemento fondamentale del del progetto che stai portando in fumetteria però non lo so c'è nel senso anch'io credevo che potesse essere un po traballante come cosa quella del lavoro ma forse in realtà lo è un po meno del poi magari sono in una situazione privilegiata io forse mi è andata bene o forse sono brava abbastanza per cui il lavoro continua ad arrivare non mi sto facendo troppe domande finché arriva io finché non scoprono che non so fare questo lavoro io continuo a farlo e non gli dico niente poi un giorno lo scopriranno era lì andrò a zappare la terra la troverò però sei come quel calciatore che non so chi me l'ha detta questa cosa ma proprio di recente mi hanno detto che c'era un calcio è stato un calciatore che per anni si è fatto fare stipendi facendo credere di essere un grandissimo calciatore quindi si faceva contrattualizzare da squadre anche professionistiche e per qualsiasi motivo per un altro non entrava mai in campo quindi questo si allenava solo il momento che dove entra in campo era fortunato c'era qualcosa è andato avanti per anni no non era gullo è andato avanti per anni facendosi pagare per senza saper giocare cioè il mio idolo è il mio il mio eroe ti rendi conto io l'ho sentita da poco non era conoscenza vabbè c'è anche gente che allena senza saper allenare vabbè adesso quanti ce ne stanno vero vero allora sì sì andrea allora è il turno della domanda di luciano mi pare giusto va bene infatti stavo a di lascio la domanda l'ho visto anche dietro quindi ti farò una domanda su quel su quella serie da quando hai cominciato comunque a lavorare sui power rangers ti volevo chiedere eri già fan da quando eri giovane ragazzino e soprattutto qual è il tuo preferito di rangers e se è cambiato da quando la facci lavori oppure è stato sempre lo stesso allora io quando sono arrivati per rangers in italia avevo tipo sei anni quindi proprio target perfetto però avevo la grande sfiga di tipo fare tutti i pomeriggi uno sport e quando ti mandano a fare karate piscina proviamoli tutti esatto quindi ero sempre fuori casa quando le trasmettevano quindi vivevo in questa situazione in cui era appassionatissimo perché mi ero fatto comprare poi i giocattoli ovviamente action figure le cose eccetera mi piacevano un casino a poi di puntate ne avevo viste poche in realtà però sì ero molto 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 fan ma della primissima serie di mighty morphing poi li ho persi via perché poi li hanno spostati da italia 1 un'altra a un altro canale eccetera quindi l'ho proprio persi li ho persi e il mio super preferito ero il power ranger verde ai tempi il green ranger tommy tommy oliver esatto perché era un po il l'outsider quello che cattivo che poi arriva così però poi crescendo arrivando sulla serie il red ranger jason conquistato il mio cuore totalmente perché la responsabilità del leader e mi abbia affascinato veramente tanto ovviamente ho avuto la fortuna di lavorare con degli scrittori che hanno valorizzato tantissimo ogni personaggio ma soprattutto c'è mi è piaciuto tanto tutto quell'arco di crescita di jason nel red ranger e quindi poi quando ho potuto fare creare gli omega rangers avere di nuovo lui quel costume nuovo eccetera verli ero quando avevo fatto menare con con tommy nella punta nella serie posti sono a posto così però è avremmo voluto vedere tutti esatto sì però ecco mi sono dovuto fare un super aggiornamento quando ho fatto shuttered grid che è stato il mega evento per i 25 anni si della che poi è stato quando io sono diventato main artist della della serie dove c'erano tutti 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 i power rangers esistenti e io ho dovuto fare un bel corso accelerato di qualsiasi serie fosse mai stata fatta e è stato un po interessante mi ha ucciso ha devastato ogni fibra del mio corpo ma è stato è stato bello e subito voluto scoprire che che fandom che fandom c'è dietro tutti in america è devastante c'è un fandom incredibile e molto attivo molto supportivo non mi viene il termine in italiano e però è fiesto di un atto affezionato sì ma anche molto caloroso nel nel prenderti farti suo è stato bello sì sì una bella esperienza è proprio a posto ho dato e ogni tanto do ancora ma è stato anche bello lasciare una sorta di eredità con gli omega rangers che appunto hanno continuato a esistere con una serie loro con delle storie sono entrati nel nel videogioco e power rangers spero ci facciano anche le action figures credo che le faranno sarebbe fighissimo ma credo che sia questione di tempo e è stato qualcosa che ecco se il mio bambino ecco questa è una cosa che se il mio bambino avesse saputo mi sarebbe stato estremamente felice questo sì questo sì ok ok il bello è che i fumetti banalmente riescono in quello che spesso i film falliscono e non sto parlando di dumpier Andrea ti è piaciuta la campagna promozionale di dumpier tantissimo guarda bellissima io inviterei bonelli a condividere il segreto di questa campagna con con la dc perché già stanno proprio così che traballano insomma col segreto di fatima di bonelli per le campagne marketing proprio chiudono istantaneamente chiudono e beh non si vediamo più bene ti è piaciuto no però sì sì belli io lo rifarei guarda lo rifarei per buttare 15 milioni di euro cioè rifarei dumpier 2 io ero il mio iban nel caso io ero più o meno va bene va bene no intendevo è stato bello perché nei fumetti si crea un questo dualismo molto più accentuato soprattutto nella prima serie di power ranger quindi fra jason e tommy che poi tommy sorridoriamo come il prezzemolo però è bello rende bene cosa che invece soprattutto nell'ultimo film quello che poi doveva essere il rilancio visivo no dei power ranger è stato invece utilizzato come carta trappola cioè nel senso film ti è piaciuto probabilmente no però guarda ti mettiamo questa post credit con tommy oliver solo per farti un po' vibrare il cuoricino è una trovata un po' particolare e volevo chiederti appunto se secondo te ovviamente nei prodotti a cui hai avuto modo di prestare diciamo così la tua matita c'è stato questo tipo di situazione ovvero nel fumetto una storia resa diciamo molto bene che magari nel film o nella serie tv è stata resa in maniera un po' peggiore o anche nel videogioco mi viene in mente nightwing tra altri personaggi magari l'hai notato in un film piuttosto che una serie piuttosto che nel gioco e detto peccato questa storia è stata bruciata così come è stato utilizzato e allora se vogliamo parlare di power rangers visto che ci ho messo mano fisicamente beh sicuramente c'è come dire hai una libertà forse creativa un po' diversa perché il pubblico forse diverse quindi ti permette anche per una questione di media di lunghezza di esplorazione dei personaggi eccetera ti permette di di osare di provare dove forse da altre parti vorrebbero giocare un po più sul sicuro poi ecco per esempio ecco per dire a me il film ti dico a me è piaciuto tranne la parte dei costumi e la parte finale però secondo me la parte di loro con la scusante che devono formare prima l'amicizia esatto ti devo dire sono andato con aspettative zero e invece mi è piaciuto però sì perché forse non lo so se è ancora una questione di pubblico che poi andrà a usufruire del prodotto e quindi magari alcune cose si ha paura che non vengano capite magari non lo so col fatto anche che appunto anche col che col fumetto hai anche meno problemi di budget e tu con una scena che pagheresti un milione di dollari in un film un fumetto la paghi lo stesso forse ti puoi anche permettere appunto delle cose che dall'altra parte non non puoi fare so semplice sto un po divagando però in realtà sto pensando più che altro alle cose dove ho messo mano io perché poi appunto per esempio nightwing nightwing adesso ho letto la run di taylor ci ho messo a mano anch'io seguo meno le iterazioni extra fumetto quindi non lo so forse il fatto anche che nel fumetto abbiamo anni e anni e anni e anni e anni di storyline che ti permettono di avere un personaggio che è un po più consolidato forse mentre al grande pubblico a volte forse meno tempo per presentarlo devi un po stringere quello che può essere la sua la sua vita la sua crescita eccetera non saprei tu tu avresti qualche idea c'era questa parte qua punto rapporto tommy jason che purtroppo nel film non è stata proprio citato doveva essere nel secondo film ma la differenza dei bonelli hanno capito che non era cosa e loro l'hanno messo subito in chiaro non si sa magari lo rifaranno faranno un reboot non si sa però appunto venendo anche dalla serie di titans insomma ci sono tanti personaggi o recentissimo black adam insomma ci sono tanti personaggi magari la loro controparte cartacea ci hanno avuto delle storie veramente molto fighe che poi però trovati al cinema vuoi per shulk vuoi per budget vuoi per condizioni di trama non lo so anche per per lavorazione cioè tempo di lavorazione per riprodurre una determinata cosa o civil war ancora mi viene in mente no la grande critica magari hanno funzionato molto meno al cinema di quello che ci si aspettava quando invece il fumetto è stato quasi un pilastro della storia o di quel personaggio o proprio di una casa editrice proprio totale sì 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 per marvel penso sia uno degli albi principali e forse rientra proprio anche nel discorso di c'era per esempio la bella roba di power rangers tommy jason credo che poi appunto serie tv degli anni 90 in affrontabile ma perché avevi personaggi avevano lo spessore di carta velina ovviamente era uno show pensato per un target molto basso in anni in cui forse certi tipi di ragionamenti a livello di scrittura non si facevano neanche quindi figuriamoci e poi di avere alcuni attori sono stati fatti fuori per questioni di budget quindi tutta un'altra tutta un'altra epoca mentre appunto secondo me nel fumetto il fatto di avere civil war hai una una storia appunto ma di una molteplicità di personaggi talmente esagerata nel fumetto hai anche un'epicità che forse nei film marvel ti trovi in endgame come come film come complessità e come completezza di personaggi quando c'era civil war non c'era neanche la possibilità di far arrivare tutti quei personaggi a schermo e poi appunto è diventata una rissa in un parcheggio la famosa lista nel parcheggio anche le motivazioni alla base di civil war però erano molto più forti e molto fighe secondo me nel fumetto rispetto a quelle che poi ci sono alla base del film credo che mamma disney c'entri in gran parte nel senso non è un caso che stavo sentendo di recente che stanno avendo molti problemi con blade col nuovo blade perché stanno facendo cioè ovviamente se prende un personaggio che già è violento di suo nel suo concept cercare di edulcorarlo per un pubblico così giovane o comunque come vorrebbe disney già è un po complicato no infatti basta vedere cosa hanno fatto con torci a me tipo il tor di chris hamsworth piace molto ma perché è un cazzone ma perché sono delle cose diverse nel senso tu hai un tor a me piace tantissimo il tor era di stracinski quello era quando lui torna che poi proprio quella post post civil war che torna che che smonta iron man che scopre cosa ha combinato che c'è il combattimento che gli leva la maschera ci torna a piedi c'è tanta roba però come come lo facevi quella roba lì non potevi e c'è almeno il pubblico non c'è c'è ancora punto non è pronto io avrei apprezzato io avrei apprezzato tantissimo cioè anch'io a me a me vedere tor in quello stato veramente mi piange il cuore perché comunque stiamo parlando di un dio stiamo parlando di un personaggio che comunque ogni volta che sta sul fumetto cavolo cioè mantiene comunque no la sua il suo status cioè parla in un suo font anche quando è indegno comunque non è mai scaduto sul trash mantiene comunque una sua possenza e io non vedo nulla di questo tor o del tor di cui io sono abituato a leggere in nel tor di emsworth e questo mi piange il cuore perché è come vedere un altro personaggio capito aver preso lo è lo è cioè nel senso io credo sia proprio fatto cioè il primo tor il primissimo film di tor e tornes a ci hanno provato e annaccio feca e allora hanno dovuto dark world non sono neanche riuscito a finire di vederlo perché quando arrivano in quattro e motorino a conquistare asgard ho detto apposto così e corral e ragnarok è piaciuto tanto perché a me piacciono molti personaggi che si prendono cioè in inglese e goofball lo definiscono il tipo di personaggio molto cazzone molto però il fatto che faccia questo percorso comunque di crescita la famosa frase di tu non sia il dio dei martelli se il dio del fulmine per quanto possa essere molto scema come però comunque c'è una sua anche accettazione di quello che è anche di appunto accettazione della della di ciò che della legacy del padre della realtà del padre di accettare il suo ruolo di crescere perdere un occhio come perse come perde l'occhio dino c'è poi l'ultimissimo non ancora visto so che è ancora più fuori di testa e vabbè c'è nel senso me lo guarderò per farmi due risate e va bene però in senso per esempio il capitano america della marvel a me è piaciuto non gli avrei dato due lire ma zero perché il buon coso mi ricordavo a quando ci aveva quando facevi film team di grimano da commedia americana dove si gira c'è la barana nel culo però invece in questo è piaciuto tanto se c'è ritrovato tanto di quella di quel carisma del capitano america dei fumetti che è un patriota ma devoto a degli ideali e non a una patria c'è nel senso che quando c'è da andare contro va contro eccetera però sì nel senso secondo me delle cose che è molto difficile portare al con la disney al cinema o nelle serie tv ma proprio perché forse quel tipo di fumetti non sono per quel target cioè credo che i fumetti americani parlino a un altro tipo di target da tanti anni a un target un po più alto è vero e in realtà se ci pensi è lo stesso discorso che si fa al cinema c'è quello che oggi magari a noi pubblico un po più adulto mettiamolo così non piace più è perché non è più diretto a noi cioè è normale che tor scritto negli anni 70 non è il tor che piace al 14 anni di oggi che su marvel now si prende il digitale e quindi loro ci hanno provato la marvel ci ha provato tra l'altro la marvel ci ha provato perché tor 1 e ancora marvel paramount tra l'altro hanno visto che non è andata tor 2 perdere hanno detto vabbè buttiamola a ridere tanto era il periodo dopo uscivano i guardiani erano piaciuti tantissimo la comicità iniziava ad entrare in maniera prepotente i guardiani sono sempre stati così andrea cioè nel senso tor però loro non hanno ragionato così loro hanno detto fanno ride funziona trovami un altro personaggio escluso drax ovviamente perché sappiamo il drax the gun è geniale però non c'entra solamente niente che hanno maltrattato in questo modo cioè negli altri nessuno negli altri personaggi tutti trovi comunque dei dei fili conduttori o dei legami con la controparte cartacea a un certo punto di tor non c'è più niente cioè ma infatti io non ti dico che abbiano fatto bene ti dico che ragionamento è stato questi fanno ride funzionano vogliamo mettere la comicità e io vi ricordo ragazzi iron man 3 cioè parliamone non entrate io non entrerei lì dentro per i prossimi dieci minuti c'è per favore a me è piaciuto tantissimo ragazzi a me è piaciuto tantissimo il 3 io ve lo dico delle battute che erano veramente da da cine panettone per favore cioè ti fa capire che la marvel voleva quello sì però anche in iron man 3 c'è comunque tony stark è tony stark cioè non è sì ma è tutto intorno a lui che è diverso non è non è tony stark il problema di iron man 3 è trevor slattery il problema di iron man 3 vabbè ma l'hanno detto che non era il mandarino cioè lì si sono un po' parati il culo a posteriori sì dopo quando la gente l'ha blastati l'hanno detto è uno dei miei preferiti erano mentre io ve lo dico è il tuo preferito nei da notti giuro è uno dei miei preferiti ma io non sono ironico io non sono ironico perché veramente io la roba del mandarino essendo che erano manchi non era post 11 settembre quel tipo di contenuto spettacolarizzazione dell'orrore e del terrorismo in cui arrivavano i video dal medio oriente in cui bruciavano io sta prendere quella roba lì e distruggerla secondo me è stato geniale poi capisco che è perché non sono un fan non sono super fan nel senso però mi piace tanto sean black si chiama il regista c'è in black che comunque super scrittore regista e sceneggiatore di roba anni 90 un bad di movie quindi io l'ho preso proprio come un percorso di tony stark per quasi preso buttato giù dal piedistallo e costretto a ricostruire il proprio ego lontano dal c'è dal sì vieni qua io abito qua vieni a prendere a che però so che ha dato tanto fastidio però perché era una roba l'eroe a prescindere dalle armature e quindi assolutamente no ma il mio era proprio un segnale marcare una linea no cioè si è visto quando la marvel ha deciso che la comicità doveva essere la chiave dei dei film ed è iron mentre diciamo l'emblema un po questa cosa ci stanno anche la password insomma ci sono diverse diverse citazioni a battute molto particolari mia am vabbè tutto il problema con tor è che oggi è vittima delle sue battute cioè tor è vittima di un attore che è un performer bravo performer che sa fare quello e gli piace fare quello abbinato a un regista che fa quello gli piace fare quello quindi tu vedi ragnarok e se lui perde l'occhio scena fantastica no potrebbe essere core con ella che lo distrugge praticamente capì sì vabbè si è diventato super saian blu ma te confio uguale però ci devono mettere la battuta vedi adesso mi ricordi papà ce la devono mettere perché se no take away didi non ce la fa c'è lui lì la battuta se la deve mettere se no non è lui mi pare di capire che ti piaccia molto tor quando hai detto il tor di chris hamsworth io un attimo ho avuto un brividino e infatti era una classificazione il tor di chris hamsworth è proprio classificato infatti daniele non so se hai notato che andrea sono tipo 20 minuti che ormai 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 ha monopolizzato la discussione su tor 20 minuti di andrea che parla di tor ma che io non ho affezione per i personaggi marvel sarà semplicemente quello che c'è per dire io sono impazzito quando ho visto la serie tv visto quando ho visto il trailer di cowboy hop della serie live action di ripreso un leggero infarto ho deciso di non guardarla e ho fatto bene molto bene ho fatto molto bene e nel senso però lì discorso è che si è andato a prendere da materiale perfetto a mio parere è uno dei prodotti prodotti di intrattenimento al prescindere che sia animato una delle cose più perfette che esistano e questo 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 sella animato originale su cui ho speso un rene dovrebbe dimostrare il mio amore questa serie e e non ci hanno capito un cazzo sostanzialmente e infatti è nato tutto si è sfasciato tutte non hanno e non hanno più prodotto una seconda serie però per il discorso è che secondo me la roba disney va per un altro pubblico non credo che la disney sia interessata a portare il pubblico a leggere fumetti e non credo che forse questo ne avevo anche parlato quando ci siamo incontrati a lucca la mia teoria è che il fatto che i prodotti cinematografici siano così diversi da quelli cartacei e proprio ciò che non porta poi lettori perché se vedete l'esplosione degli anime post co vid siamo tutti a casa ci spari a serie anime su netflix guardando ho sentito un'interferenza c'era un attimo un rientro c'era un interferenza c'è stato un rientro aspettate fatemi fare un f5 così magari risolviamo adesso facciamo l'f5 si era mezzo impallato me sa vediamo figata voglio vedere come continua vado in fumetteria e mi prendo il resto quello che prendo è esattamente quello che stavo leggendo la storia da dove è finita me la posso proseguire i disegni più o meno sono quelli eccetera eccetera se io vado al cinema mi guardo tor e dico figata al tor cazzone vado a leggermelo da dove inizio qual è la storia di riferimento non c'è non c'è quel gancio lì quindi credo che il pubblico proprio sia completamente diverso e che quello che uno cerca nel nel se qualcuno cerca le emozioni che ha provato leggendo i fumetti non so se le troverà poi nella controparte c'è se così c'è così tanta affezione per il personaggio poi ti dico in game quando capitano america dice cioè quando vedi il martello che parte capisci che lui che lo sta maneggiando è lì il cuore batte nel senso lì e non prendiamoci in giro però anche per me che non sono un appassionato però però capisco benissimo chi chi magari cerca altro ma come quando provo ascoltare la trap e dico no non è che dico ah si giovane non capiscono un cazzo dico questa roba non parla a me nel senso come quando ragazzino io ascoltavo della non so il rap i club dog di 15 anni fa e volevo fare il figo magari anche mio padre poteva pensare ma questo che cazzo ascolta non era per lui nel senso come queste cose non credo siano per noi o per un certo tipo di pubblico chiaro chiaro non è vero hai perso intanto il disegno mauro in tutto ciò volevo farti notare lo so ho dovuto fare l'effetto però magari dicevi comunque dato dato che andrea si è preso mezz'ora per la sua domanda quindi adesso prima di passare le domande alla chat mi prendo due domande io e poi perché sono curioso molto curioso e poi passiamo alle vostre domande quindi continuate evidenziarle così come state facendo io devo cambiare sedia perché questa cosa si abbassa ogni due secondi sta cedendo una cosa incredibile e allora daniele la mia prima domanda è classica ormai la facciamo a tutti i fumettisti perché qui è nato una sorta di con la diretta e nacque proprio durante la diretta di elena casagrande e tra vado a porre insomma perché così non ti arrabbiare perché alcune persone hanno presa male sta cosa è una sorta di meme ovviamente non ce l'abbiamo con questa categoria di persone però ha visto no diciamo anche per chi ci ascolta magari non è pratico il fumetto all'interno di un fumetto no possono coesistere più persone lavorano insieme quindi ad esempio può esserci chi fa le matite che si occupa degli inchiostri si occupa dei colori e possono essere tre persone diverse così come la stessa persona a te è mai capitato che un colorista magari con cui hai lavorato andasse poi a come dire a non voglio dire rovinare perché sembra brutto diciamo rovinare a non essere soddisfatto che ti ha portato a non essere soddisfatto poi del risultato finale da qui è nata la cosa è vero che i coloristi sono brutte persone però insomma sì è vero sì è confesso viva la sincerità quindi ti è capitato insomma guarda ma io prima di guarda io per riuscire a farmi mettere walter baiamonte il santo walter baiamonte sui power ranger ho dovuto combattere mille battaglie perché io e walter ci conosciamo già da tanto non eravamo mai riusciti a lavorare effettivamente su un progetto poi ufficiale assieme perché perché non c'era mai stata l'occasione ho dovuto spingere parecchio poi quando ha fatto poi la prima issue di power ranger colorata da lui in boom hanno detto ma insieme magia e ragazzi ve lo sto dicendo da un po di anni se mi aveste ascoltato prima e perché sì comunque nel senso io credo di avere uno stile particolare perché ho delle reference particolare una provenienza dell'ispirazione particolare quindi walter essendo con le mie stesse reference visive sa perfettamente dove andare a mettere mano ci sono altri stati altri coloristi che non sempre hanno azzeccato diciamo il tono o comunque magari la sintesi che io uso quindi andare magari mettere delle ombre delle luci in maniera particolare quindi alcuni hanno proprio fatto un lavoro no proprio dannato altri diciamo che non erano proprio prettamente di mio gusto devo dirti che però mi è andata abbastanza di culo con gli ultimi lavori fatti senza il bom walter ovvero starfox in marvel e nightwing in dc dove invece è stato fatto un ottimo ottimo lavoro in particolare nightwing che l'ha colorato il colorista regolare della serie ha fatto davvero davvero un gran bel lavoro tra l'altro è arrivato in anteprima il numero qui e devo dirti che è stato veramente veramente molto molto bravo e sono stato molto soddisfatto del suo lavoro ecco se posso fare una postilla sui coloristi americani e che loro le luci ogni tanto hanno un po paura a metterle falter spara cioè tu apri un album colorato da walter ti sbruciano le retine marmello a valter ha proprio sta roba di dei colori fluo che io adoro e però gli americani intanto vanno un pochino un po troppo soft quindi amici americani amici americani nascolto aprite aprite tutto ogni tanto che fate come lucio esatto marmella non usate sostanze come lucio ma senza pensare senza pensare esatto aprite tutto senza valter no shooting ok no te lo chiedo perché poi durante un panel ci hanno detto però questo problema è risolvibile parlando con direttamente col colorista però ci dicevano che soprattutto anche nelle produzioni americane è molto difficile che si vada poi effettivamente a parlare col colorista e quindi alla fine poi ci si trovano a magari non non riuscire a far capire come si vuole magari un certo tipo di colore o come voler strutturare poi quella che tutta la parte di colore del del disegno effettivamente sì cioè nel senso allora ti dico ultimamente un po meno io ho avuto la fortuna di lavorare con editor che comunque la le pagine colorate ne facevano avere volta per volta e mi chiedevano eventualmente delle note delle correzioni se ne avevo da fare mi è capitato cioè tipo per esempio con nightwing esattamente in alcuni momenti ho detto mettiamo una lucina in più niente di che però perché comunque a non mi piace mettere becco nel lavoro degli altri a meno che non sta facendo una roba che ha cannato che non si capisca o cose come un po che ne so c'è il mantello che invece pensavo fossero capelli è un errore che può capitare fai la correzione via però è vero ci sono altre produzioni in cui tu per esempio il mio primissimo lavoro per l'america che è stato mirror's edge era un tie in del videogioco io le tavole le ho viste direttamente colorate senza poter intervenire ecco lì è stato un'occasione in cui non avrei voluto vederle no però lì non ho proprio avuto occasione di interagire con il colorista però capita anche magari di sentirsi separato c'è per esempio con walter perché siamo amici ci sentiamo proprio separatamente su whatsapp ci mandiamo le cosine mi manda le tavole mi fa vedere gli chiedo le correzioni se c'è qualcosa da correggere però si si cerca di collaborare ecco ok ma nella critica perché in italia penso poco questa cosa perché non c'è già già quando dici che le matite potrebbero essere fatte da una persona e il colore è un'altra se crea un attimo tipo è cosa ma non si fa da solo il fumetto però magari in america questa cosa funziona di più non lo so nella critica c'è la conoscenza del fatto che i colori possano non essere fatti da chi ha disegnato cioè quando uno ti critica magari un fumetto e critica il colore se la prende sommariamente col disegnatore o effettivamente riconosce la figura del colorista e sa prende col colorista noi in america sono c'è no si sanno perfettamente tutte le divisioni ma ti dico addirittura arrivano a nominare il letterista proprio quando ci sono le recensioni si 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 sono sono molto attenti a tutto e se c'è da criticare criticano il colore se c'è da elogiare elogiano anche il colore nelle recensioni che hanno fatto ai miei lavori quando ero in coppia con walter spesso parlavano di una cosa dell'altra e poi dell'unione insieme dei due fattori quindi per fortuna l'occhio c'è e qui in italia non ci sono queste recensioni quindi non lo so no 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 e allora l'altra domanda che in realtà si b forca 2 raccolata la ton è questa dato che sono uscite precedentemente quando l'abbiamo fatta delle situazioni divertenti ti chiederei se ci sono state delle commission che ti hanno chiesto strane cioè nel senso completamente tu dici oddio come ci è arrivato a chiedermi una cosa del genere tipo a un nostro ex ospite col quale collaboriamo che simone buonfantino gli è stato chiesto di disegnare gesù con la tuta di iron man ci ha fatto ci ha fatto molto chiedere a te sono in capitale delle situazioni strane cioè di commission strane allora ti nominerò un po di casa all'inizio inizio inizio della mia carriera quando ero in fiera in italia sono molto famosi gli sketch hunter ovvero sono questi figuri più o meno sempre gli stessi che non importa tu chi sia non importa cosa disegni l'importante che loro abbiano uno sketch da te e quindi c'era sto tipo che chiedeva a tutti guerriera nuda mi fai una guerriera nuda e io le la feci ma le feci una guerriera dietro un grandissimo scudo dove non si vedeva niente così ti attacchi maledetto maniaco e chiedeva appunto se benedette guerriere nude e quando ho cominciato a fare invece la miniserie del pink ranger ci fu sto tipo americano che sia nella modalità in cui mi chiese la commission che nella commission stessa aveva quell'aspetto un po creepy ovvero mi chiese allora vorrei il pink ranger però non trasformato insieme allor zed però devono essere la figura intera nella stanza del trono di lor zed lei deve avere la pancia scoperta lui la deve abbracciare da dietro con la mano all'altezza dell'ombelico e tutta una serie descrizioni in cui ha detto sì ma tu stai parlando di una ragazzina di 16 anni te ne rendi conto e infatti non li feci mai 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 questa cosa e lo gostai anche no poi vabbè ci fu un periodo in cui provai ad aprire le commission digitali perché ho visto che c'era tanta richiesta dopo proviamo vediamo poi non ne feci manco mezza ma ricevetti un sacco un sacco di di richieste di ovviamente personaggi furri cioè personaggi originali che questi utenti queste persone su twitter avevano creato e mi chiedevano di fare la versione furri la versione di furri ti sei buttato fuori da solo andrea non ti abbiamo buttato fuori comunque personaggi furri è per i furri secondo me si era talmente spaventato di quel potenziale serial killer che ti aveva chiesto una cosa del contanto di particolari del ranger che ha detto ok io esco che c'ho paura era qualcosa e fattelo tu capito esatto è talmente tanto di schizzi è fatto da sopra però no più particolari no 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 questo ok questo però sì c'è sempre una forte dose di creepiness dietro le richieste che sì bello grazie non lo farò mi sa che no poi ci sono io che quando chiedo a che vuoi non so wolverine come lo vuoi fai te fai te cioè io addirittura a volte faccio scegliere direttamente al fumettista dico che cosa vuoi quello che preferisci guarda c'è un personaggio che preferisci fammi quello cioè sono proprio semplice perché stimo talmente tanto la persona a cui chiedo la commission che effettivamente mi piacerebbe che lui disegnasse qualcosa no a cui tiene a cui è particolarmente legato secondo me ha anche un senso diverso no piuttosto che personale esatto più intimo mi piace pensarlo e l'ultima cosa daniele era sulle sull'inserire personaggi di contorno ossia vado a specificare meglio quanta libertà si ha nell'inserire in tutto ciò che non è principale cioè abbiamo avuto magari Matteo Lolli che dice io ci inserisco personaggi le meme ok ci inserisco meme tipo la ragazzina e corre o altre cose e l'abbiamo anche trovata ci ha fatto vedere dove trova altri che dicono io ho inserito il volto te in parente mio cognato mio ugino c'è essenzialmente quanto puoi spingerti oltre nella personalizzazione diciamo di un fumetto e quanto invece o dove devi essere proprio ligio a quello che ti dicono allora la mia regola è se non mi sgamano io lo faccio poi ti dico ti dico vabbè allora ovviamente nulla di blasfemo offensivo tutta quella roba lì ci sono stati disegnatori che hanno inserito roba antisemite dietro e sono stati cacciati proprio così però io ti dico qua dentro io sono riuscito a ficcarci la squadra Gnew di Dragon Ball dico solo questo e devo reperirlo quel fumetto un motivo per comprarlo ho fatto una sto facendo delle cover per flash sono riuscito a fare uno che corre con la naruto run quindi se mi hanno passato anche quella io sono a posto dopo i miei check li ho messi fine fine la telecamera è andata ok io sono però è così se non vedono e nunca alla fine sono cheat sono cheat che uno fa però alla fine appunto se non è nulla di ecco magari se qualcosa di coperto da copyright ecco una volta sui Power Rangers avevo messo come personaggi di sfondo la scooby gang proprio i personaggi di scooby doo e io li avevo disegnati Walter aveva capito perfettamente cosa stavo facendo infatti mi ha mandato una foto un close up e mi ha fatto visto li ha colorati giusti però l'editor me li ha cannati ha detto bello ma abbiamo paura che ci possano rompere le palle quindi abbiamo dovuto colorarli diversamente però c'erano c'era la scooby gang così di contorno l'unica ecco questo magari se c'è del copyright però vabbè così ecco la squadaggine io non è proprio la squadaggine cioè vabbè quando uscirà la issue si capirà perfettamente cosa intendo però questo è il limite che mi do se non mi sgamano io vado che figata la squadaggine ma guarda anche nella cover di flash il tizio che corre con la naruto run è uno dei flash un flash che corre così se riesco a farlo è bellissimo e quello è stato approvato che tu sappia cioè ho mandato oggi le pagine se me l'hanno approvata no sarebbe l'editor non mi starà seguendo quindi a posto esatto dai sarebbe sarebbe epico cioè veramente una cover di flash con un flash che corre con la naruto run è veramente tanta roba tanta roba ok allora adesso passiamo a voi le domande della chat evidenziatele così come state facendo così io scorro la chat e mi fermo casualmente su alcune delle domande quindi oggi niente scaccia sì dammi tempo Andrea dammi tempo oddio mi stressi mi manca l'aria mi manca l'aria stavo facendo tutto il preambolo per poi dire però prima e invece così li illudi scusa passiamo voi loro si preparano ti contenti quelli e poi fai un'altra cosa e poi Andrea fammelo dire mi tarpi un po' le ali però la suocera che mi va sempre comunque ci c'è ora casualmente facci sapere se è stata approvata per la cover di flash si siamo curiosi poi qualora venisse approvata mi mandi un messaggino mi dice approvata io so mi preparo per l'epicità capirai però prima vedi Andrea io farei il cambio scena che sta avvenendo adesso perché devi sapere Daniele che noi da poco collaboriamo con un fumettista che abbiamo avuto come nostro ospite che è Simone Buonfantino e anche lui fumettista Marvel DC Comics sì 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 conosco di nome non ci siamo mai conosciti di persona ma lo conosco ok e quindi per ogni nostro live talks che è questo dove partecipi e del nostro format di punta lui fa uno sketch uno sketch sulla diretta sull'ospite che andiamo insomma ad avere nel nostro salotto virtuale e in questo caso io te lo vado a far vedere così lo vediamo anche insieme a chi ci sta seguendo in questo momento e vado a riselezionare la slide ed è questo qui lo riesci a vedere? oh eccolo qui ok ti dico anche il commento che ha fatto al disegno ha scritto ho voluto rendere omaggio ai Power Rangers disegnati da Daniele cercando di restituire a modo mio la freschezza e il dinamismo caratteristici del suo tratto è un boss grazie mille mi piace un sacco mi piace un sacco mi piace un sacco ti piace come molto 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 si 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 grazie davvero si 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 bene questa è l'occasione ti ringrazierò anche di persona bene a voi in chat piace ragazzuoli si 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 sta piacendo fantastico e quindi no anche a me poi è curioso sapere però perché ha scelto proprio il red no? forse sa che sono fissato pure io con vero è una magari si è informato simil stalker ha scoperto effettivamente che poi è il red dei Mighty Morphin si effettivamente l'avevo visto prima in maniera distratta in realtà è ha preso proprio quello giusto esatto 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 vedi quanto è stato bravo dietro che lavoro di ricerca c'è stato no? lavoro di stalking esatto lavoro di stalking allora in chat scrivono bellissimo è stupendo moltissimo fantastico e Luca scrive quel disegno dà un senso di cazzutaggine al personaggio ma forte cazzutaggine cioè cazzutaggine cazzutaggine è cazzuto il biologismo esatto cazzutaggine è tipo petaloso no? c'è un nuovo termine però funziona di più no? esatto esatto cazzutaggine esatto bene 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 sono contento che ti sia piaciuto ovviamente lo faccio molto sapere anche a Simone noi facciamo di nuovo il cambio scena per passare le domande della chat quindi cambio scena cambio scena eccoci siamo tornati siamo tornati allora lo facciamo sto jingle tra l'altro Davide Marchese io gli ho chiesto faccia un jingle carino stava con l'ukulele gli ho detto ce l'ho campioni e lo mettiamo qua al posto di star schifetto non l'ha fatto ancora no però ha detto che l'avrebbe fatto vediamo vediamo perché va bene manderemo in pensione domani lo faccio quindi ti chiedo scusa Daniele ma abbiamo ancora il jingle quello bruttissimo che ti farò sentire va benissimo ragazzi della chat ecco dopo sta sta gringiata fantastico fantastico ci siamo giocati anche quel poco di professionalità gringiata esatto check fallo tu il jingle ma che faccio io non so cantare comunque la prima domanda che vedo è di Tommy ed è proprio così debotto senza senso ti chiede se ti piace Harry Potter e di che casa di Hogwarts sei in caso e allora non ho mai letto i libri ma mi cioè beh tutti ogni volta che fanno i film in tv me li risparo come se fosse la prima volta perché mi divertono molto so bene che ci sono un sacco di differenze incongruenze rispetto ai libri infatti mi sono informato anche su quelle e se fossi di una casa ma un bel serpe verde dai andiamo un po' più sul diventiamo un po' più ci ricollega tantissimo a quello che tu hai detto all'inizio nella tua presentazione che sei ambizioso eh sì quello è il tratto principale deserto e verde il cappello parlante in questo che bello può essere sopra di me nella chat esatto la stream è perfetta tipo così Luciano prova a dare prova a dare un'assegnazione di casa ecco il cappello parlante sardo cioè abbiamo proprio l'unicità va bene mi rimetto sopra io che lo vedo Lucia che stai a guardare eh stavo guardando Daniele tu l'hai spostato ti ricordo che le donnine nude in diretta non le puoi vedere aspetta che ci stacchiamo perché insomma è una brutta dà una brutta impressione di te stesso qualcosa si vede in diretta esatto metti caso penso che poi parte anche l'audio e sente ah insomma evitiamo evitiamo per favore Luciano evitiamo non lo rifaccio non lo rifaccio chi ha sentito ha sentito avranno lippato eh lo so Daniel intanto ti informo che ben due frasi storiche sono entrate all'interno del nostro calderone sono addirittura tre sono tre esattamente tre e ti ne vado a citare la 3.39 da piccolo volevo fare il ladro il prete e il pilota di aerei questa così senza contesto è bellissima la seconda la 3.40 è finché non scoprono che non so fare questo lavoro io continuo a farlo anche questa è piaciuta ce l'hanno segnalata in chat e la terza di poco fa è la mia regola è se non mi sgamano lo faccio direi questa è la mia vita ragazzi questa è la mia vita quindi complimenti insomma perché è un bel traguardo questo sono molto contento bene bene questo è lo spirito e l'atteggiamento giusto sì 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 allora c'è un Eisner davanti alla nostra esatto ma molto bello così poi è un record io sono più che felice vero vero sì 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 allora sto leggendo fanpage ci chiede come nasce la passione per il mondo del fumetto però ne abbiamo già parlato prima insomma quindi è ridondante mister lannister chiede vorrei chiedere al nostro ospite se può parlarci della sua esperienza lavorativa per il power rangers e qual è il suo preferito anche questo ne abbiamo già affrontato prima quindi vado avanti daniele puoi parlarci dice roberto della lavorazione di seven secrets seven secrets seven secrets seven secrets è stata è stato un bel viaggio è stato un bel viaggio durato due anni iniziato nel peggiore anno che un sbonto possa ricordare nell'ultimo secolo probabilmente perché è iniziato nel 2020 quindi anche con tutte le ansie del caso collaborare con Tom Taylor è stato figo è stato molto molto bello soprattutto perché ho avuto la fortuna di farlo proprio agli inizi della sua esplosione perché vabbè Tom ormai nel settore c'era da tanti anni però diciamo che abbiamo preso esattamente il momento in cui stava diventando molto 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 importante come scrittore ed è stato anche bello che uno scrittore di così importante e così bravo come lui mi abbia lasciato così tanto spazio in molte scene in molte scene e molte scene d'azione mi ha proprio scritto nella sceneggiatura Fai tu è stato divertente creare così tanti personaggi è stata una sfida una sfida personale perché una cosa che mi piace proprio tanto disegnare sono l'espressività l'espressione la recitazione la caratterizzazione quindi avere un cast così vasto e potermi divertire con una recitazione unica per ognuno di loro un design unico cercare di renderli uno diverso dall'altro eccetera è stata una bellissima parte del lavoro e in generale è stata proprio una bella esperienza quindi mi mi spiace che sia finito da un certo punto di vista però sono anche contento che sia finito esattamente nei tempi e nei modi che c'eravamo prefissati nel senso noi fin da subito anzi ti dirò di più noi inizialmente avevamo programmato 15 issue ma visto il successo iniziale ce l'hanno aumentati a 18 e e quindi abbiamo avuto proprio un percorso programmato cioè così come l'avamo programmato è andato ci sono stati dei cambiamenti in corso e sono felice che alcuni cambiamenti siano stati frutto di mie idee e quindi proprio perché poi magari sono cose che fuori si vedono e si capiscono o si pensano un po' meno però un creator è proprio anche questo quando due artisti uno scrittore un disegnatore collaborano poi il frutto è qualcosa che a volte è inscendibile nel senso dei meriti di uno e dell'altro quindi è stato figo ok altra domanda mister Lannister qual è il soggetto che ti è piaciuto di più disegnare e qual è il soggetto che ti piacerebbe disegnare che non hai ancora avuto modo di fare quindi quello che ti è piaciuto di più e quello che ti piacerebbe di più eh bella domanda bella domanda perché piaciuto di più eh ti dirò nel senso a parte Seven Seekers per cui ovviamente ho un rapporto personale ti dico Power Rangers forse sono stati una delle cose con cui mi sono divertito di più e su cui ho sofferto di più e cosa mi piacerebbe disegnare eh forse un nuovo un nuovo creatore Oned con con uno scrittore figo perché appunto come dicevo prima non essendo un super appassionato di supereroi eh non ho quel tipo di affezione per cui dici ah il mio personaggio da sogno sarebbe Spider-Man chiaro che se domani mi dicono vuoi fare Spider-Man sì cioè mi spoglio vado in giro urlando e dico sì eh però cioè tipo una roba che mi piacerebbe fare che ne so una run di Iron Fist ma tipo torneo di arti marziari alla Dragon Ball così una roba un po' un po' matta così eh perché mi piacciono un po' i personaggi più secondari chi farebbe il commentatore sai chi farebbe il commentatore JJJ eh sarebbe perfetto particolare JJJ ma nella versione quella classica o nella versione quella nuova che è tipo un semi-influencer no mi piace la versione classica quella classica con gli occhialoni come quello di Dragon Ball col baffo e bello sì 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 che urla Spider-Man a caso esatto esatto o se no commentano lui e Spider-Man uno di fianco all'altro eh bello ahia ahia è una tentazione per lui praticamente eh sì 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 figo figo vado avanti vorrei chiederti Fanpage se puoi raccontarci se c'è stato un incontro che è stato un punto di svolta per la tua carriera un incontro che è stato un punto di svolta eh guarda probabilmente l'incontro con il mio insegnante di sceneggiatura a scuola del fumetto che era Diego Caglielli eh perché eh abbiamo avuto subito un ottimo rapporto per me è stato un insegnante bravissimo e fondamentale nella mia formazione di eh fumettista ma anche proprio di fruitore dei generi perché come spiega lui devo dire che che raramente ne ho incontrate di persone e grazie a lui poi quando è finita la scuola lui ha stava aprendo uno studio e io chiesi se potevo unirmi a quello studio mi unì a quello studio e grazie poi alle persone che ho trovato dentro che erano tutti professionisti più grandi di me eravano tutti una decina d'anni più di me parlo del 2011 eh ho cominciato a mettere i piedi dentro il mondo del fumetto proprio con entrando a contatto con la professionalità vera capendo come fare questo lavoro capendo che tipo di testa dovevo metterci eh avendo la mia prima occasione lavorativa grazie a Diego che stava lanciando Long Way una primissima serie per la Aurea di un sacco di anni fa e e lui mi diede fiducia per fare un numero e e poi da lì la mia carriera lavorativa non si è mai fermata quindi devo ringraziarlo per la fiducia che mi diede ai tempi e per la possibilità anche che mi diede di stare a contatto con dei professionisti appena uscito da scuola ed è talmente qualcosa che credo sia molto importante per un giovane esordiente che è la stessa cosa che ho fatto io con con dei miei ex allievi che ho preso in studio poi da me perché credo che sia molto importante e utile per un esordiente poter essere a contatto con certe realtà che non vuol dire che ti regalano i lavori perché per fortuna un po' di meritocrazia ancora c'è però la fiducia ecco quando ti viene data soprattutto all'inizio non è facile non è facile darla e quindi non so dove sarei ecco se se mi avessi dato la possibilità di smuovermi anche banalmente da uscire di casa andare in uno studio e quindi avere quel tipo di routine ok chiaro chiaro altra domanda Willow buonasera streamers un saluto e non sentito grazie al nostro ospite per essere qui stasera Willow parti male devi fare buonasera a men buonasera agli altri streamer e buonasera al nostro sentito ospite cioè mi devi differenziare da ste due brutte persone perché se no così non va bene vista la vista la sua esperienza sia nazionale che estera vorrei chiedergli se nota delle differenze di trattamento per così dire da parte delle committenze straniere che ti trattano meglio che ti trattano come un professionista che fa il suo lavoro e non come uno che passa per casa così no allora banalmente tu prendi un albo straniero e il tuo nome è qui in copertina prendi un albo italiano da edicola mainstream non ti parlo da libreria e il tuo nome non è lì credo che sia già un aspetto importante per farti capire come che tipo di valore danno all'individualità anche di un autore su un personaggio nel senso ok c'è il personaggio ma c'è anche l'autore e c'è tanto riscontro anche da parte della casa editrice stessa cioè il tipo di trattamento che ti danno è un trattamento che qui in Italia raramente si trova e quindi è un peccato però secondo me questa è la più grossa differenza che io ho sentito nel senso ti danno un valore e come se quello che tu hai da dire è da dare avesse un peso pari a quello dello scrittore e questa cosa non è scontata per niente per niente è vero è vero da ragazzo leggevi solo comics o anche manga? io non leggevo comics da ragazzo leggevo solo manga io sono cresciuto con i manga i comics allora quando ero piccolo piccolo mia mamma mi portava qualche spider man anzi da te mi portava il giornalino figurati e portava qualche spider man però poi quando ho scoperto i manga sono stati solo manga fino a quando poi non sono arrivato alla scuola del fumetto da lì ho ricominciato a leggere comics ma non mi ci sono mai veramente appassionato è stata più che ci sono delle storie che mi sono piaciute molto ci sono dei disegnatori che mi piacciono tantissimo però le emozioni che ho provato che provo tuttora leggendo manga anche per una questione proprio estetica e di ispirazione purtroppo nel fumetto mainstream americano non lo trovo poi c'è tutta la parte indie americana che è divertentissima mi piace un casino la trovo molto più divertente delle major però ecco i comics americani hanno avuto una parte più piccola di quanto si possa pensare sulla mia formazione ok puoi raccontarci del tuo progetto lavorativo Nightwing sì allora è stato molto divertente ti devo dire la verità non mi divertivo così tanto su un progetto di una major da un sacco di tempo e mi ha tirato dentro Tom ovviamente e mi ha voluto su questa issue proprio perché poi essendo che compare questo personaggio che è Nightmite che è appunto un folletto della quinta dimensione tipo Batmite o MXY mi sembra che si chiami quell'altro è è tutto molto caricaturale tutto molto estremo tutto molto divertente ma anche no cioè nel senso sono anche delle cose serie però questo mi ha permesso di giocare molto con i personaggi di estremizzare molto le loro espressioni rendere un po' ridicole alcune situazioni e sono contento di averlo potuto fare spero spero che poi piacerà al pubblico esce settimana prossima e speriamo piaccia sì spero ovviamente però è stato divertente Tom è bravo fa ridere siamo curiosissimi curiosissimi è un fotogramma di Cowboy Beepop quello incorniciato dietro di te sì ce l'hai confermato prima ce l'hai confermato sì sì anche originale 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 sì 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 cavolo bello è il mio tesoretto sì ho anche le matite poi nascoste da qualche parte ma quello proprio con l'acetato dietro lo sfondo separato incorniciato super pro sì fantastico non ti piace però non ti vedo no 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 zero non è adesso è un'impressione la cosa è di più allora Luca Luca Cipolletta ciao Luca sapendo che l'ordine è questo Power Ranger Power Ranger 0 Turbo Power Ranger Power Ranger Turbo e per finire Power Rangers in Space quale Megazord prenderesti non vale il singolo pezzo che lo compone ma deve essere già assemblato PS io quello di Space dove l'arma è il missile del blu particolare io mi sono perso al primo Power Ranger però e prenderei in realtà ho preso anche l'action figure come reference del Zeo mi sembra non è nello Zeo non me lo ricordo più quello che sembra un samurai quello che ha la katana gigante non mi ricordo come si chiama quello lì quello mi piace molto ok non mi viene il nome cioè non mi viene neanche a me proprio il classico mi sa che quello anche quello classico è sempre molto figo ma sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno quindi figurati ok non so se è stata posta la domanda però vorrei chiedere al nostro ospite se può raccontarci qualcosa della sua lavorazione su Star Fox Axe Star Fox e beh Star Fox poi è un personaggio secondo me meraviglioso Eros stiamo parlando del fratello di Thanos sì quando mi è arrivata la mail dicevano vorrei farti fare questo one shot su Star Fox ma chi cazzo è Star Fox mi stanno appioppando poi come il fratello di Thanos come è comprasso negli eterni ah sì 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 subito lo faccio subito no è figo nel senso mi è piaciuto molto perché mi è piaciuto anche l'approccio un po' alla Jojo che ha avuto Kirion nell'esplorare i poteri di Star Fox che non ha vissuto di una ottima fama fino a un certo punto perché si sa che i suoi poteri erano un po' borderline e diciamo che ne ha abusato in maniere non limpidissime in alcune storyline appunto perché lui ha questi poteri in cui può controllare l'emozione o comunque può suscitare amore nelle persone quindi sono state delle storie in cui sostanzialmente poi è stato accusato di stupro per come si è comportato diciamo che stanno cercando un attimino anche di allontanarsi da quel tipo di uso dei poteri e infatti in questo one shot che mi è piaciuto molto devo dire come disegnare e mi è piaciuto molto il personaggio perché cerca più di essere un'ispirazione positiva cerca di infondere per esempio c'è una scena in cui c'è una persona che sta morendo e lui con i suoi poteri sta cercando di alleviare il più possibile questa sofferenza cercando di far sentire l'amore che lui sinceramente prova per questa persona che per non farla sentire sola oppure dall'altro lato lui fa innamorare due particelle di idrogeno per creare una fissione nucleare e far esplodere una meteora quindi questi sono gli opposti del suo potere però mi è piaciuto molto come concetto appunto alla Jojo di utilizzo di amore però è stato divertente pur non sapendo chi fosse all'inizio ma e anche l'estetica nuova che gli hanno dato molto Jojo anche quella il design dei costumi era di Valerio Schiti però appunto un'estetica un po' gender fluid non binaria arrivando anche da Seven Seekers dove avevo dei personaggi non binari non che mi sia stato detto che lo fosse però mi è piaciuto come approccio ovvero appunto essendo associato appunto all'amore secondo me era interessante che avesse questo tipo di estetica e che non c'entrasse nulla con Harry Styles soprattutto quello anche per mantenere il discorso del distaccamento tra fumetto e film che facevamo anche prima esatto esatto non mi è stato richiesto non mi è stato neanche richiesto di ricreare una somiglianza quindi credo che non ci sia neanche l'interesse come dicevamo prima di creare delle somiglianze ancient wolf 95 c'è ancient wolf allora il personaggio daresti di tutto per diventare il disegnatore del suo prossimo fumetto ne abbiamo già parlato prima con la domanda però ti fa la stessa domanda al contrario ossia quello che non vorresti mai quello che non vorrei mai disegnare sai che non allora probabilmente non so di specifico a chi mi potrei rivolgere ma forse un personaggio troppo dark e troppo d'atmosfera con poca azione e troppa serietà non credo di essere detto così sembra Batman non credo che ripeterei mai un lavoro su Batman però no ecco non credo che siano delle atmosfere che mi 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 appartengano anche se forse sarebbe proprio divertente provare applicare la mia visione a quel tipo di atmosfere però così su dei piedi non credo ci sia un personaggio ecco di cripto tipo il cane di Superman cioè gli animali non ho voglia di disegnare quello no quello no però per il resto non credo di avere ecco magari domani mi arriva un'offerta terribile e dirò ecco questo questo non volevo disegnare lui questo non volevo proprio farlo questo non volevo farlo cazzo ma è povero cripto però cripto è fighissimo no ma non è che non mi piace che non voglio disegnare i cani è bastato disegnare un po' in Nightwing è bello quando lo disegna qualcun altro capito neanche Cosmo disegneresti che il cane è quello di Guardia della Galassia che parla russo ma è anche Semsworth quindi questo è pesante ci dissociamo dall'accusa di Luciano Chris Hemsworth se qualora dovessi vedere sta diretta sappi che io mi dissocio e devi mandare una bella querela a Luciano Bulla posso dare il tuo indirizzo in live Luciano via sì Ogliastra Sardegna va bene Ogliastra allora se uno vuole ti domandano può chiedere un fumetto privato per se stesso che vuol dire sta domanda che cos'è un fumetto privato occhio a strane idee a Mauro che subito no no sono curioso facci capire specifica sta domanda che vuol dire se uno vuole può chiedere un fumetto privato per se stesso tu l'hai capito devo aver capito credo che sia effettivamente ci sono dei privati che commissionano dei fumetti interi a dei disegnatori ah ok cioè esisteva credo esistano ancora c'era proprio dei forum dove c'erano gente che cercava disegnatori per o scriversi un fumetto o per commissionarsi qualcosa quindi proprio commissionare un intero fumetto a un disegnatore sì 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 ma pagando è una bella idea eh Mauro nascerà il fumetto di The Man Under The Hood adesso sulla nostra storia dagli inizi con Luciano che giocava a bambino con i piccioni è una bella storia Luciano è una bella storia fino ad arrivare a dove siamo oggi con tutte le fiere gli eventi in realtà Luciano tanti chiedono dove è finito Jay Daru ragazzi Luciano è la trasformazione di Jay Daru cioè questa cosa andava svelata è vero in realtà Luciano è l'evoluzione tipo è è DJ voluto capito Jay Daru è DJ voluto scrivono scrivono man il tuo prossimo acquisto ma perché mettiamo un bel sub goal così lo pagate voi il fumetto e io lo commissiono a Daniele e facciamo questo bel fumetto sul ok io con Jay Daru è tipo nell'ultima puntata di Boris vedere Gifumi è detto guarda sono sono Fabino esatto esatto quindi quindi ti è capitato cioè capita che persone commissionino ma poi in quel caso chi la scrive la storyline cioè sempre naturalmente il committente a meno che qualcuno dica sono talmente pieno di soldi che voglio scrivere un fumetto sulla mia vita quindi prendo James Tainion e Imenetz ripago una fracca di soldi e scrivono il mio fumetto se no capita ma non mi stupisce neanche come domanda nel senso sono cose abbastanza comuni è un po' come dire mi fai il ritratto nel senso magari c'è qualcuno che ha vuole fare un regalo a qualcun altro e quindi ecco dove l'avevo vista sta cosa infatti stavo pensando l'ho vista a qualche parte era diventato un trend dei regali ma non so in che contesto so che però ci stava tutta gente che commentava questi albi li apriva li spogliava e c'erano storie a caso tipo da amicizie tipo per il compleanno di un amico dal primo giorno che si è incontrato tutti questi pipponi giganti e adesso infatti man mano che ne parlavi dicevo l'ho già sentita però questa cosa non mi ricordavo dove effettivamente non mi ricordo probabilmente su youtube quelle cose assurde che escono su youtube però è vero è vero pipponi assurdi cioè in senso storie che veramente non venderebbero mai mezza copia ma certo ovviamente perché un sacco di gente arrivi dovresti fare un fumetto su di me e io di no dovrei tirarti un pugno in bocca ma non lo faccio perché ehi così però vabbè poi cavolo un fumetto cioè nel senso immagino anche il lavoro che c'è dietro a un intero fumetto cioè veramente devi essere non voglio di super ricco però comunque molto abbiente per poter permetterti no di commissionare un intero disegno su quello che può essere magari anche abbastanza pieno di te insomma discretamente soprattutto o poi magari vuole scrivere una sua storia e vabbè cioè nel senso magari ci prova e ah ok quindi dice un autore in erba che scrive una propria storia e commissiona un professionista la parte grafica per poi poter cercare di non dire esatto sì 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 poi vabbè comunemente può essere inteso come il proposal nel senso è pieno di gente che ti contatta ti dice voglio commissionarti queste tavole perché poi voglio fare un proposal e quindi poi va a proporlo al publisher di turno però nel senso si può fare magari agli inizi per pagarsi anche boh una pizza non lo so però in America ripeto ci sono dei forum dove pagano anche abbastanza bene nel senso in America è normale chiedere quanto vuoi per una tavola scontato che si paghi è qui che è un po' meno no 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 pagare per una tavola ci sta però c'è un immagino appunto far fare una tavola intera su te stesso no come fosse il quadro il ritratto di Marilyn perché è un po' particolare no c'è una richiesta sì o sei Saviano che dici effettivamente ho una vita che un po' particolare che nel senso ci sta che magari infatti hanno fatto il fumetto e se no o lui o mille altre persone su cui effettivamente la vita vale la pena che essere raccontata se no se no può il senso veramente i misteri del cosmo sono infiniti esatto esatto però pensa che bella la vita c'è un fumetto sulla vita di Luciano cioè io lo comprerei io lo comprerei che poi veramente Daniele tu lo conosci poco però Luciano dentro questo canale ha fatto il delirio cioè praticamente ha fatto sceneggiate su lui che giocava da mongass con un gioco dove si è scoperto che era l'impostore tramite il riflesso degli occhiali allora si è incazzato si è torto occhiali poi si è messo sta parrucca bionda sono usciti meme su meme con lui a parrucca bionda con il genere di campagna insomma possiamo definirlo il lato la vena comica di questo canale Luciano la linea comica la linea comica il martellone di Vanander De Hood il martellone esatto un po' gifone in tante è vero è vero se lo vedi così calmo poi sotto sotto ne ha fatte di cose una mina vagante esatto esatto andiamo avanti con le domande vedo Tommy che ti chiede le tue serie tv preferite e questa non è scontata però perché ti chiede anche il dottore di Doctor Who preferito questo vuol dire che presuppone che tu sia un grande fan di Doctor Who e che le abbia visti tutte che non è scontato esatto non ho mai visto Doctor Who quindi togliamo il tuo dottore preferito ti dirò Tennant perché mi piace Tennant come attore quindi facciamo così ottima scelta ottima scelta però non ho mai mai visto Doctor Who e le serie preferite vabbè animazione ovviamente Lost mi ha fatto piangere innamorare Better Call Saul recentemente conclusa sì mi piace tantissimo The Shield Fringe ce ne sono veramente tante 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 ovviamente è la classica domanda che poi ti viene il vuoto mentale in quel momento lì ce ne sono così tante che non sai presti cosa c'è sì 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 però appunto queste queste sicuramente Twin Peaks Twin Peaks assolutamente una delle mie serie preferite sì direi che comunque un buon elenco dai sì sì un buon elenco sì è vero è vero c'è mai stata una tavola che disegnandola ti ha fatto provare emozioni forti tipo entusiasmo tristezza sì 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 mi capita molto spesso di vabbè se hai la fortuna di lavorare con degli scrittori molto bravi questa cosa ti succede cioè almeno a me io mi medesimo molto nelle storie quando disegno e con Seven Seekers mi è capitato molto spesso Tom è bravo a pugnalarti proprio al cuore forte e quindi c'è stata più di una più di un'occasione più di una scena dove mi sono sia esaltato che mi sono commosso proprio per per la storia infatti quello poi mi porta anche a cercare di dare il meglio e cercare di trasmettere l'emozione che io stesso ho provato in primis leggendo la sceneggiatura c'è proprio una scena nel vabbè sarà il terzo volume poi quando sarà conoscerà la raccolta anche in Italia che mi ha particolarmente colpito però sì 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 ci sono ci sono ok ok allora io andrei a porre l'ultima domanda una barra due e poi andiamo in chiusura e poi diventa sequestro di persone esatto ricordiamo che noi non vogliamo assolutamente sequestrare i nostri ospiti sono sempre molto molto carini a darci comunque è un piacere mi sto divertendo molto da essere onesto penso la prossima volta che ci vedrà Luca quel cazzo che ci saluterà ciao Daniele non ti voltare io non li conosco vedi però gli hashtag sequestriamo gli ospiti sequestriamo gli ospiti no 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 non lo faremo non lo faremo sequestriamo gli ospiti quindi non lo faremo non lo faremo perché poi non ci devono andare da loro in fiera a vedere a guardare in faccia gli ospiti esatto 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 e quindi c'è scritto domanda cattivella quindi già mi piace come se partite secondo te ha più possibilità di catturare il pubblico medio un fumetto con una storia blanda ma con belle illustrazioni o uno con una buona storia ma illustrazioni poco curate non è male è particolare è la seconda la seconda quindi una storia blanda ma illustrazioni poco curate no no è una bella storia ma con illustrazioni poco curate ah ok scusami sì una bella storia ma illustrazioni poco curate ah secondo te è più la seconda sì 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 ma è perché abbiamo milioni di casi di cose disegnate benissimo che fanno dove la storia non ci porta a nessuna parte ma guarda l'attacco dei giganti lo stavo per vincere ti giuro per farne una nel senso ma possono cioè nel senso la storia ti fa perdonare cioè ti viene voglia di leggere un bel disegno non ti fa venire voglia di continuare io sono è pieno di cose che ho comprato per guardare i disegnatori ho provato a leggerle grazie che palle ma è altrettanto pieno sono pieno di cose disegnate non per forza male però in maniera onesta ma guarda ma per dire anche Demon Slayer per prendere un manga un altro manga non è che cioè ovviamente qualitativamente è molto migliore di Attack on Titan normale secondo me a livello visivo però ha fatto un successone poi anche magari a livello di storia o anche Jujutsu Kaisen un altro manga che sta andando fortissimo in Giappone a livello di disegno è molto grezzo però piace tanto ma anche anche molti successi occidentali cioè un sacco di storie che ma anche Watchmen non ce lo ricordiamo per i disegni ce lo ricordiamo per un lavoro dignitosissimo ma che non spicca per personalità secondo me ma anche Sweet Tooth madonna mi non riesco a parlare stasera scusate ci hanno fatto la serie tv di recente i disegni sono così però voglio dire ha vinto premi su premi ha fatto un successone Walking Dead non è che fosse famoso per i disegni di Adlard dignitosi però vince la storia sicuramente vince la storia che non deve essere una scusante per disegnare male ma quando hai una bella storia disegnata bene win win è invincible quindi però ci sta ci sta vedi vedi io invece ingenuamente avrei detto l'opposto cioè nel senso magari anche una persona che non non legge abitualmente fumetti che entra in fumetteria magari viene attratta da una bella che non sa ancora dove andare a parare o cosa prendere magari viene molto attratta da una bella cover oppure aprendo sfogliando da dei bei disegni quindi ti faccio una domanda uno che non legge fumetti quindi non sa di disegno sa distinguere un bel disegno da un brutto eh bella domanda forse noi siamo stati noi siamo stati a Pescara siamo stati dieci minuti a commentare dei disegni di Marco Mastrazzo che era lì presente in fiera effettivamente poi il commento che abbiamo fatto è questo è una persona magari non ci sta attento no alla parte anatomica quindi a come viene trattata o al riflesso della luce su un particolare del costume noi che fondamentalmente siamo malati di fumetto nel senso che ci piace proprio stare là a vedere anche gli stili differenti lo apprezziamo ma effettivamente a chi non gliene frega niente del fumetto vedete semplicemente quello che etichetta come un bel disegno e basta ed è un peccato è un grosso peccato in realtà però è effettivamente così è strano è strano applausi a Daniele per Daniele fino a domattina scrivono grazie concordano sulla bella storia ma illustrazioni poco curate grazie va bene ragazzuoli io mi fermerei c'è un commento di Tommy che ti consiglia una serie ti consiglio se non hai mai visto Euphoria per l'ospedale anche a me la consiglia a tutti sta serie sì me l'hanno consigliata me l'hanno consigliata vero è carino è carino devo farmi in auto tv per questo quindi non fatemi pagare un altro servizio è vero che poi ce ne sono solo per vedere quella ce ne sono 3000 ormai quindi no no vabbè solo per vedere Euphoria no non ne vale però allora andiamo in chiusura ovviamente è stata una live molto molto bella ringraziamo tutti voi che ci avete seguito fino alla fine chi si è connesso dopo l'applauso più grande ovviamente per chi ci ha seguito dall'inizio alla fine ringraziamo i mod per l'ottimo lavoro svolto ringraziamo i VIP c'è scritto grazie Daniele speriamo di vederti presto su questi lì di nuovo perché no magari quando volete quando volete è uno speciale adesso Daniele sta dicendo quando volete però poi come smettiamo ci blocca da tutti i social e diventerà rintracciabile quindi sappiate lancio il computer dalla finestra per non farmi rintracciare la poster è stato benissimo è stata una chiacchierata fantastica quindi quando volete ok Mauro il cecchino ha funzionato bene bene infatti hai visto il laser non si è visto guarda Willow come cerca di recuperare grazie Daniele grazie streamers ma soprattutto grazie man che è la stessa che prima ha detto ciao streamers va bene grazie a voi grazie a Tension Wolf Mr. Lannister siete fantastici quindi sicuramente allora dato che Daniele si è sbilanciato in un medio lungo termine lo rivedrete di nuovo qui magari coinvolto in uno speciale perché noi Daniele facciamo anche speciali tematici su un singolo argomento magari non so a proposito abbiamo parlato di Nightwing potremmo fare uno speciale Titans dove andremo a coinvolgere il direttore di doppiaggio le voci italiane dei personaggi principali magari te come fumettista che ci puoi parlare di Nightwing sotto l'aspetto oltre che della serie se ti è piaciuto o meno anche sotto l'aspetto cartaceo potremmo coinvolgere dei WFX artist che hanno lavorato alla serie televisiva insieme facciamo due ore di chiacchierata su una serie del momento un film iconico quindi se ti fa piacere noi sicuramente quando organizzeremo Titans ti contatteremo per una disponibilità mentieri farò i compiti a casa no ma ragazzi quel giorno lì guarda sono proprio impegnato bene allora gli daremo quattro proposte di data così non avrà invece saranno tutte e quattro occupati si scrive ovviamente punto esclamativo telegram per seguirci punto esclamativo ospite per seguirlo su instagram non stalkeratelo però e noi ci vediamo domani con un bellissimo speciale a proposito di speciali house of the dragon dove avremo ben sei ospiti tra voci italiane fumettisti WFX artist molto molto interessante quindi io non l'ho visto Daniele quindi farò sto speciale senza sapere né che cosa è Game of Thrones ne che cosa è house of the dragon io so sono qui per il folklore però ci saranno insomma per il meme per il folklore esatto per il meme per il folklore quindi buonanotte a tutti che c'è Luciano? sarai tu la linea comica domani per una volta probabilmente sì buonanotte a tutti ci vediamo domani ciao ciao grazie a tutti grazie grazie a tutti